ed eccoci ancora una volta nello studio di racing time siamo i primi episodi in realtà di quest'anno lo avete visto abbiamo iniziato con lo speciale da basel world 2017 ma oggi invece vi proponiamo una puntata dove si parla naturalmente di motori ovviamente anche di orologi come sempre ma anche di sport ad alto livello e sì perché quando a trovarci in studio c'è un marchio come hublo bisogna dire insomma che lo spazio si amplia tantissimo però la conferma la vorrei chiedere tra poco l'ospite che ci è raggiunto in studio non è la prima volta quindi lo ringrazio di essere tornato ancora a trovarci ovvero Emanuele Cito Filomarino che è marketing e communication manager di Hublo Italia bentornato Emanuele grazie buongiorno tante cose da raccontare con te fra poco ci arriviamo perché insomma Basilea è un ricordo ancora fresco ma prima devo salutare con grande simpatia e piacere come sempre Paolo Artemi style Corriere della Sera il nostro opinionista è il nostro amico buonasera buonasera Andrea buonasera a tutti buonasera Emanuele grazie mille grazie mille Paolo insomma a tanti gli argomenti che sono in ballo in questa puntata lo dicevamo Basilea Basilea un modo per tornare a scoprire le grandi attività di Hublo e le sue grandi partnership perché Hublo direi che è proprio questo da un lato c'è la grande evoluzione tecnica tecnologica naturalmente e di design e poi anche su questo avremo un personaggio importante del cui parlare ma soprattutto queste relazioni importanti con i grandi marchi grandi marchi dei motori uno in primis Emanuele lo lascio citare a te perché insomma direi che è quello di riferimento da sempre Ferrari esatto certo ma giustamente come dicevi per noi il prodotto e la ricerca e sviluppo è importantissimo è fondamentale il tutto è supportato da un reparto marketing e comunicazione molto importante nella fattispecie ci siamo legati dal 2012 a Ferrari ed è una partnership a 360 gradi dove c'è proprio una commissione fra la nostra reparto stilistico e loro col fuine di disegnare diciamo a quattro mani i nostri orologi Paolo con te invece vorrei soffermarmi ancora un po' su Basilea è vero che già abbiamo raccontato nello speciale Baselworld per Hublo come per tanti altri marchi le principali novità però vorrei sapere che cosa ti ha colpito di più che cosa ti è rimasto un pochino più impresso di questo devo dire che di Hublo mi colpisce tutto quanto basta guardare questi due pezzi che qui ti rionfano per capire che c'è una capacità di fare gli orologi che è superiore a ogni possibile immaginazione ce ne sono tantissimi gli orologi fantastici ma questi sono veramente molto ma molto interessanti diciamo che Basilea ha avuto il merito di far debuttare un orologio a goccia un orologio molto ma molto strano Emanuele spiegamelo tu Certo ti riferivi all'MP09 Tourbillon Biaxis che è per noi una premissima mondiale di un orologio di una cassa di 49 mm quindi importante per ospitare all'interno il movimento più raffinato di tutti che è il Tourbillon che in questo caso si muove su due assi In un numero limitatissimo di esemplari Sì sono chiaramente 20 pezzi per quanto riguarda 20 pezzi in King Gold che è il nostro oro fuso con il platino per essere ancora più luminoso e 50 pezzi in titanio Senti vi aggancio al termine il Tourbillon in questo caso lo spostiamo dal mondo degli orologi un Tourbillon di eventi questa volta perché lo accennavamo prima i 70 anni di Ferrari se avete già insieme a Ferrari realizzato così tanti eventi accompagnandoli in tutto il mondo non oso pensare adesso che arriva appunto questa celebrazione importantissima per la casa del Cavallino penso che sia un anno intenso forse per usare un eufemismo per Hublot Sì è molto intenso avremo un sacco di eventi di attivazione insieme a loro in tutto il mondo per celebrare insieme a loro i 70 anni del Cavallino celebriamo in un modo anche proprio intrinsico di Hublot creando un orologio che non abbiamo qui in studio che abbiamo appena presentato a Basilea che non è un classic fusion, non è un big bang lo chiamiamo tech frame ed è un orologio esclusivamente celebrativo dei 70 anni Ferrari è fatto in tre materiali differenti ce n'è una versione in titanio una in carbonio unidirezionale e una in king gold tutte a tiratura di 70 pezzi ma il tech frame è qualcosa anche di particolare perché c'è un legame stretto con Ferrari c'è un legame strettissimo il tech frame è un orologio con questa cassa pieno a vuota disegnato da Flavio Manzoni è interamente disegnato da Flavio Manzoni quindi è stata data carta bianca per chi non lo sapesse naturalmente lo ricordiamo responsabile del design Ferrari quindi un personaggio assolutamente di spicco è fondamentale nel mondo Ferrari noi abbiamo costruito il motore questa volta e loro hanno fatto il design che sono un po' strano però effettivamente è così ma è questo il motivo del successo di questa partnership Paolo, Flavio Manzoni persona che so che tu hai avuto modo di conoscere beh insomma raccontacelo un po' raccontaci qualcosa di questo personaggio nel quale si ribatte molto ci sono tanti successi anche dal suo punto di vista però forse non si riassume tutto lì sì è vero Andrea Flavio Manzoni ormai è un designer veramente nell'universo immaginario dei grandi designer ha fatto la sua gavetta oggi è capace di disegnare le Ferrari l'ultima creatura è la 812 Fastback che è stata lanciata a Ginevra ma soprattutto penso che abbia un rapporto particolare con il tempo, con il ritmo Flavio Manzoni suona il pianoforte e lo suona bene tanto è vero che ha una manifestazione di quattro ruote che si è tenuta alcune settimane fa per la premiazione delle più belle automobili dell'anno viste dai lettori di quattro ruote Flavio Manzoni sul palco ha intrattenuto tutti gli ospiti suonando molto bene un bel pezzo di jazz adesso abbiamo trovato un bel colombio, un bel legame però il legame con la musica non finisce mica qui per Hublot giusto? perché Depeche Mode per esempio cosa ti dicono? cosa ti suggeriscono? è una partnership che noi abbiamo già da qualche orologio abbiamo già fatto con loro due orologi e quest'anno con l'occasione del loro nuovo CD e Tour Mondiale abbiamo elaborato un nuovo orologio su base Big Bang unico quindi col movimento di manufattura che è un chrono flyback un'edizione limitata a 250 pezzi in ceramica e con il Depeche Mode ci siamo impegnati già per le due precedenti edizioni a donare a questa associazione benefica che si chiama Charity Water che porta acqua petabile nei paesi del terzo mondo in particolare con l'ultima lezione dell'orologio abbiamo già donato 1.4 milioni di dollari per portare l'acqua potabile in Etiopia una grande iniziativa della quale vogliamo anche ringraziarvi effettivamente sono sempre iniziative davvero molto molto importanti Paolo, velocemente chiuderei il discorso Ferrari dopo il racconto su Flamio Manzoni perché il Mondiale di Formula 1 è iniziato quindi una Ferrari è iniziato bene è iniziato bene una Ferrari che insomma è vero dai test si annusava un po' che ci fosse la possibilità ma i test sono sempre un gran rischio hanno raccontato menzogne per tanti anni riferite ovviamente a tanti team invece questa volta direi che c'è stata una conferma siamo lì con Mercedes c'è stata una bella conferma siamo lì con Mercedes io valuterei non tanto Vettel e Hamilton ma i loro due compagni perché per vincere i campionati del mondo occorrono dei buoni partner e tutti e due stranamente hanno due partner finlandesi Valeri Bottas è finlandese Raikkonen è finlandese che differenza c'è tra i due? uno è un rookie è uno giovane è uno che sta iniziando la sua carriera l'altro è uno che ha vinto già un campionato mondiale ma insomma se noi guardiamo i palmarès dei due piloti forse forse un piccolo vantaggio ce l'ha Vettel a patto che non faccia i capricci e vediamo speriamo naturalmente di no Emanuele stiamo arrivando in chiusura di questa puntata quindi vorrei fare il punto con te su un paio di situazioni quella intanto delle partnership extramotori in questo caso soprattutto nel calcio la Juventus in primis siamo in Italia ma in realtà non solo perché più o meno tutti i grandi club europei o molti di essi sono legati a Dublò e poi perché comunque abbiamo parlato di questa bella partnership con Ferrari naturalmente delle altre delle ultime grandi novità però so che avete dedicato uno spazio molto interessante alla cosiddetta altra metà del cielo è giusto? giustissimo sì in Italia Juventus Ferrari Italian Dependent e una prima assoluta per Dublò e Italian Dependent insieme per la prima volta un orologio dedicato alle donne con quadrante cintorino in velluto edizione molto limitata anche questa 100 pezzi ciascuno in blu in blu blu chiaro e viola e quindi chiaramente come tutti gli orologi Italian Dependent anche con un paio di occhiali naturalmente senti siamo curiosi Paolo vorremmo azzardare un regalo in questo caso se ci fosse una cosina importante cosa dovremmo investire per questi orologi per le signore? se si aggira sui 20.000 sui 20.000 sì sì costa molto meno che di una Ferrari ma certo anche questo è limitato questo orologio femminile che è un Big Bang Sugar Skull Fluo ha la tiratura a 100 pezzi e la cifra a cui si aggira è la stessa e questo è un altro pezzo molto speciale con cassa in ceramica elaborato esteticamente insieme a Bar Raffaeli che è nostra ambassatrice ed è fatto cassa a cinturino cioè quadrante a cinturino in pizzo di Sangallo quindi tutto cucito a mano quindi opere d'arte opere d'arte opere d'arte autentiche sia come orologi che come auto naturalmente visto che abbiamo potuto parlare anche di Ferrari Formula 1 ma non solo noi invece siamo in chiusura di questa puntata di Racing Time quindi vado a ringraziare ancora una volta per essere stato con noi Emanuele Cito Filomarino marketing e communication manager di Ublo Italia grazie Emanuele grazie a voi grazie e poi naturalmente saluto per Paolo Artemi Style Corriere della Sera grazie mille Paolo grazie Andrea grazie Emanuele di essere stati qua insieme con noi e noi invece amici di Racing Time e anche naturalmente di Safe Drive Motorsport ci ritroviamo come sempre la prossima settimana ciao grazie